Dal celeste all'azzurro, intervallato da una striscia di nero, queste le sfumature della carriera calcistica di Goran Pandev, attaccante macedone classe 83, ultimo colpo ad effetto messo a segno nella campagna acquisti estiva del Napoli. Dal celeste all'azzurro il passaggio è stato non solo cromaticamente più affascinante di quello che lo avrebbe portato ad indossare la maglia rosso-blu del Genoa. Ad approfittare del mancato accordo tra Moratti e Preziosi è stato Aurelio De Laurentiis che non si è fatto sfuggire l'opportunità di regalare a Mazzari un attaccante mancino in grado di garantire tanta corsa ed altrettanti gol. Con la maglia della Lazio è andato in doppia cifra per tre stagioni di fila dal 2004 al 2007 e nel 2009 ha sferato il poker fermandosi a sole nove reti. L'anno successivo invece è rimasto a secco per i primi sei mesi sicuramente a causa dell'ormai celebre rottura con l'Otito ma successivamente si è rifatto con gli interessi diventando uno dei perni centrali dell'Inter di Murigno. In quella stagione infatti il tecnico portoghese ne è saltato le doti tattiche proponendolo sia come seconda punto al fianco di Eto'o e Milito che come tutto fare sulla corsia esterna. A Napoli Goran si presenta in punta di piedi dopo una stagione nella quale ha segnato poco e anche per questo ha ancora più voglia di ritornare alla grande. La formula del prestito con diritto di riscatto sarà per lui un incentivo in più al pari della concorrenza elevatissima in avanti dei collaudati Cavani, Lavezzi ed Amzic. Al San Paolo è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla poco prima della gara amichevole di sabato sera contro il Palermo a tal punto da definirsi entusiasta del pubblico partenopeo ma adesso gli toccherà superare l'esame del campo a partire dalla prima gara ufficiale contro il Cesena e questa per Pandev sarà tutt'altro che una sfumatura.